Le temperature sono finite sotto lo zero e in Aspromonte una magia bianca all'incanto della prima neve della stagione a Gambarie d'Aspromonte. Così con l'arrivo dell'inverno il paesaggio aspromontano si trasforma in un dipinto incantato quando le prime nevi fanno la loro apparizione. La magia di Gambarie si rivela in tutta la sua bellezza sotto uno strato candido di neve fresca regalando emozioni uniche a chiunque si immerga in questo spettacolo naturale. Il clima degli ultimi giorni faceva presagire ciò, temperature in discesa, la neve così finalmente è arrivata. La prima neve nel cuore dell'Aspromonte, dalle strade tranquille agli alberi addobbati da fiocchi di neve scintillanti, ogni angolo di Santo Stefano d'Aspromonte, uno dei comuni più vasti dell'Aspromonte, si trasforma in un'opera d'arte invernale. I residenti, ma anche gli albergatori, coloro che hanno le strutture ricettive turistiche, alcolgono la neve con sorrisi di entusiasmo, pronti a vivere la magia delle stagioni, una stagione turistica che si preannuncia importante. I bambini intrecciano sciarpe colorate e costruiscono pupazzi di neve, riempendo l'aria di risate e allegria. Così le attività invernali prendono vita, dai mercatini natalizi che illuminano le piazze ai prodotti tipici aspromontani e poi la pista di sci che si prepara ad accogliere gli amanti dello sport invernale. Questa prima neve porta con sé una nuova energia, invitando tutti ad abbracciare la freschezza e la serenità che solo questa stagione sa offrire. La Calabria è meravigliosa, a due passi il mare, a due passi la montagna, ma questa di Gambarie è più di un semplice cambiamento meteorologico e un'esperienza che risveglia la magia e la bellezza della stagione invernale.